Griffin, ed è stato Crespo a sottolineare l'anomalia al direttore di gara dicendo però appunto che c'è sangue sul vuoto di Griffin, il calcio, Crespo! C'è una respinta di Griffin sulla linea, attenzione Almeida carica il destro! Che gol! Che gol Almeida! Raddoppio dell'Inter, straordinario gol di Almeida! Una botta con il destro incredibile per il raddoppio dell'Inter, esultano anche dei tifosi con la bandiera turca Gol dell'Inter, messo a segno da Almeida, è stato un euro-goal straordinario, non nuovo a queste prudezze Almeida Ricordiamo una in particolare con la maglia della Lazio, guardate che tiro strepitoso, palla imprendibile per Given Given, rivediamo da altra angolazione, Almeida, Given, quasi non vede partire il pallone e c'è il raddoppio dell'Inter, partita che si mette benissimo per gli uomini di Cooper abbiamo rivisto ancora la straordinaria prudezza di Almeida mentre vediamo probabilmente il momento del gol con Cooper che accenna ad un...